Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video. Buonasera, buonanotte, non so quando starete vedendo questo video, qui da me praticamente ormai c'è il buio e quindi non so bene che saluto darvi. Siamo tornati, siamo tornati nel vostro format preferito, vi ho fatto attendere veramente tantissimo, me ne rendo conto. Vi chiedo scusa ma non l'ho fatto per cattiveria nei vostri confronti, se ho rimandato così tanto un altro episodio del format paranormale, cose inquietanti, è perché non mi sentivo nel mood. Io quando faccio questi video ho bisogno proprio di sentirmi nello stato mentale, nelle energie giuste per parlare di questi argomenti e in qualche modo tutto il periodo estivo era troppo solare, troppo felice, troppo allegro, troppo colorato. Adesso che ci stiamo avvicinando sempre di più ad Halloween invece è proprio il momento perfetto per riprendere in mano questo format. Per chi è nuovo il format paranormale è un format dove racconto tutto ciò che ha a che fare con questo mondo un po' misterioso, quindi può essere che parli di entità, fantasmi, ma anche fatti un pochino più concreti, ma comunque un po' inquietanti, un po' misteriosi. Vi devo anche dire che ormai siamo alla fine di questo format, a meno che non mi succedano nuove cose, perché tutto quello che potevo raccontarvi ve l'ho raccontato, mancano pochissimissime esperienze, episodi della mia vita, alcuni non so neanche se voglio effettivamente raccontarli. Ce ne sarà uno che invece racconterò insieme a Gabri, perché è un'esperienza paranormale che abbiamo vissuto insieme ed è stata molto molto tosta. Quello che invece andrò a raccontarvi oggi, raga mi viene da ridere perché è una situazione veramente tragicomica secondo me, è quella volta in cui hanno cercato di esorcizzarmi. Sì, benvenuti nella mia vita in cui succedono soltanto cose assurde, tra cui anche questa. Questa è una cosa che ho raccontato ai tempi su Twitch, ma poi altrove veramente non mi è mai capitato di raccontare di questa esperienza. E subito vi specifico che no, non c'entrano preti, non c'entra il cristianesimo, non c'entra la chiesa, quindi non si parla di un esorcismo vero e proprio fatto da un pret esorcista, ma ciò che questa persona ha cercato di fare con me è effettivamente una sorta di esorcismo. Ne approfitto per salutare la mia famiglia che non sa assolutamente nulla di questa cosa e scoprirà di questa mia esperienza solo ora in questo video. Un saluto a casa. Cosa succede? Come ben sapete, casa mia è una casa dove sono accadute tante cose, tanti fenomeni paranormali, perché sembra che ci sia quest'entità, questo fantasma, non so come vogliamo chiamarlo. Io lo chiamo Ugo, che infesta la casa dei miei genitori da quando io ne ho memoria, vi ho già raccontato di Ugo, ne abbiamo parlato anche insieme a mia sorella in un video, insomma c'è questa entità. Tra l'altro sappiate che io tra pochi giorni parto e torno dai miei, le ultime volte non era successo nulla di troppo strano, ma ora ci tornerò che siamo praticamente sotto Halloween, quindi il velo tra due mondi si assottiglia, ho un po' paura onestamente. Vabbè, ma cosa c'entra Ugo? C'entra perché era un periodo in cui le manifestazioni di Ugo in casa mia erano sempre più forti, sempre più frequenti, sempre più tangibili e io iniziavo un po' a spaventarmi. All'epoca parlavo tantissimo con il gruppo di mie amiche, raccontavo loro tutte le cose che accadevano e anche loro erano un pochino preoccupate perché appunto c'era questa attività strana che non mi faceva stare proprio serena. È successo che un giorno Ugo ha esagerato, ha deciso veramente di manifestarsi in una maniera un po' troppo tangibile, utilizziamo questo termine. Era a piena notte, verso le due, le tre di notte, il solito orario insomma. All'epoca io avevo i dread ai capelli e mi ricordo che proprio lui mi spostava i capelli mentre dormivo, era in grado di muovere le coperte, perché io ovviamente ero nel letto che cercavo di dormire, insomma faceva proprio cose tanto forti, tanto visibili, non i soliti rumorini, cose del genere, ok? E mi ha spaventato talmente tanto quella notte che io, presa dall'esaurimento, mi sono messa a fare un rituale di bando. Non di bando da tutta casa mia, ma da camera mia, perché comunque sembrava che Ugo, in realtà questa cosa sembra tuttora, abbia un legame proprio con me. Tant'è che adesso che io ormai non vivo a casa dei miei, praticamente non lo sentono più, si fa sentire ogni volta che io torno a trovare i miei genitori, quindi c'è proprio questa cosa con me, perché ovviamente fra tutti con chi è che doveva avere il legame, con me, ovviamente, vabbè. Quindi questa entità che io sento da quando sono bambina in casa dei miei, quella sera esagera, quindi prendo tutto il necessario e inizio a fare questo rituale di bando. E da quel giorno Ugo è bandito da camera mia. Tra l'altro sembravo una pazza, mi sono immaginata se i miei genitori mi avessero vista in pre da un attacco esterico alle 2-3 di notte che facevo un rituale di bando, non so, forse mi l'inchiudevano e facevano anche bene. Per fortuna nessuno mi ha visto, il rituale tra l'altro ha funzionato perché da quel giorno ho sempre percepito, comunque in ogni caso Ugo, ma sempre all'esterno di camera mia, quindi sentivo i suoi passi sulle scale, i soliti rumori che faceva in tutte le stanze, in tutta la casa tranne camera mia. Vi specifico che adesso io questo rituale di bando l'ho annullato, perché tanto ormai io lì non ci vivo più, e quando torno anzi un po' vorrei sentirlo per poter riportare altre esperienze anche a voi. Quindi ho detto vabbè intanto lo annulliamo, nel caso fosse necessario lo rifaccio, vabbè forse sono un po' pazza anch'io. Vabbè comunque tornando a noi, quella sera aveva veramente esagerato, mi ero spaventata, mi aveva fatto incazzare di tutto e di più, quindi scrivo proprio alle tre di notte, due di notte, insomma in piena notte, alle mie amiche dicendo, boh raga veramente io piena perché ha fatto così, 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 cosà. In questo gruppo di mie amiche c'era una persona in particolare che aveva una zia, o comunque una sua parente, se non ricordo male, una zia che faceva delle cose, non so spiegarvi esattamente questa persona, come possa essere definita, cosa facesse, però in sostanza mi aveva detto che lei voleva parlarle di me, a sua zia, della mia situazione, perché secondo lei poteva aiutarmi, e che già una volta aveva provato a parlarle di me, ma questa sua zia aveva ricevuto un segnale non tanto positivo, una cosa del genere, tipo che le si era rotto qualcosa mentre questa mia amica le parlava di me, e quindi le aveva preso come un segno brutto, ha detto no no, io non voglio avere a che fare con questa persona, e invece poi ha detto vabbè, senti, se la situazione è così, facciamo che parlo a mia zia, magari ti può aiutare. Quindi questo è ciò che succede, questa mia amica parla con questa sua zia, e lei decide di aiutarmi, dice ok va bene, la situazione sta andando un po' troppo oltre, portala qua che ci penso io. Da quello che ho capito, lei comunque faceva questa cosa per lavoro, comunque su compenso ecco, però veramente io vorrei darvi dei dettagli in più, ma non ho nemmeno mai chiesto effettivamente cosa facesse, so che aiutava le persone per queste cose qua, vabbè. Quindi prendo appuntamento e la mia amica mi accompagna appunto da sua zia. Diciamo che all'inizio è stato un po' strano, cioè tutto il pomeriggio che abbiamo vissuto insieme è stato coronato di momenti molto particolari, e alcuni momenti erano molto inquietanti e reali, altri mi sono sembrati un po' una buffonata. Infatti io vi riporto tutto quello che è successo, vi riporto anche i miei pensieri, le mie sensazioni, le mie considerazioni, e poi mi dite anche voi cosa ne pensate. Diciamo che come sono arrivata all'inizio, questa persona, questa zia di questa mia amica, mi aveva lasciato un po' sorpresa positivamente. Io non sapevo chi fosse, cioè non sapevo nemmeno cosa avrei fatto da lì a poco, però mi lasciava molto sorpresa perché all'inizio si stava parlando un po' così tra di noi, la mia amica e sua zia parlavano un po' dei cavoli loro, bevevano un caffè, e ogni volta che io andavo con la mente a pensare all'entità, a quello che era successo, a quello che stavo per fare, questa signora smetteva subito di parlare con la mia amica, si girava verso di me e mi diceva, no, non ci devi pensare, non pensare, distraiti, devi distrarti, pensa ad altro, non pensare a quello. E vi giuro sarà capitato tre, quattro volte che ogni volta che la mia mente andava lì, lei mi sgamava, quindi io all'inizio ho detto, ok, forse questa persona effettivamente ci sa fare, forse magari buona, mezza sensitiva, non lo so, veramente non lo so. E quindi già io un po', va bene, ok. Una volta che ora hanno bevuto il caffè e tutto quanto, ci spostiamo in questa stanza, dove avremmo fatto una sorta di meditazione guidata. Quindi io mi sono sdraiata in terra, su un materassino forse, non ricordo bene, e lei aiutandomi tra l'altro con un massaggio al collo, la cervicale, alla mascella, perché sono i punti dove io accumulo più stress, quindi erano i punti che io facevo più fatica a rilassare, mi guidava in questa meditazione. E questa meditazione è stata una cosa abbastanza normale, nel senso che io ero già pratica di meditazioni, ne conoscevo le meditazioni guidate e quello che mi stava facendo fare questa persona non era nulla di strano, nulla di sbagliato, nulla di inquietante, insomma tutto filava liscio. Infatti durante questa meditazione guidata lei mi diceva di vedere il mio corpo come se lo vedessi dall'esterno, di percepirmi dentro una bolla, una bolla che man mano esce dal mio corpo, va via, va su, e poi iniziava a farmi delle domande, quindi tipo adesso dove ti trovi, che luogo stai vedendo. Io mi ricordo che ero in una specie di spiaggia, dove però davanti a me c'era il mare, ma intorno a me era pieno di alberi, una sorta di bosco, foresta, che nel momento in cui uscivi c'era questa spiaggia col mare, un'ambientazione del genere molto bella, molto rilassante, era tutto molto rilassante. Lei ha iniziato a chiedermi, vedi qualcosa intorno a te? Io dicevo alberi, spiaggia, bla bla bla. Allora poi mi chiede, vedi qualcuno insieme a te? E io rispondo no. Prova a guardare meglio, vedi qualcuno magari tra gli alberi? Io no, non c'è nessuno. Senti qualcosa, qualche voce, qualche nome? E io assolutamente no, non sentivo niente. Era tutto bellissimo, una sensazione meravigliosa, lì in riva al mare, nella pace più assoluta. E qui infatti inizio a percepire qualcosa che non mi stava piacendo molto, ma non nella mia meditazione, nella realtà in questa signora. Perché vedevo che ogni volta che io rispondevo no, non vedo nessuno, no, non sento nessuno, lei insisteva, sei sicura, guarda bene, senti bene, bla bla bla. E se ti dico di no, amo, è perché effettivamente non sto sentendo nessuno, non sto vedendo nessuno. Allora decide di, niente, finire la meditazione guidata, farmi rientrare man mano nel corpo con lo stesso procedimento di prima ma all'inverso. E qui ricordo un'altra cosa molto strana che mi aveva detto, ok, adesso che sei tornata nel tuo corpo, non cercare di alzarti, aspetta perché tanto sarai praticamente immobilizzata. E raga, effettivamente, io non riuscivo ad alzare il collo, riuscivo a muovere le braccia un po', alcune parti del corpo, ma non riuscivo proprio ad alzare la testa. Quindi mi ha aiutato lei, facendomi riprendere praticamente il controllo del corpo, finché alla fine non sono riuscita a muovermi del tutto. Quindi ecco qui di nuovo un mix di cose un po', un po' strane, inquietanti. Non lo so, ancora non l'avevo capito bene, non l'avevo ancora inquadrata bene questa signora. Adesso arriva l'altra parte un po' sus, che mi ha fatto dire, secondo me questa persona mi sta fregando. Praticamente inizia a dirmi, guarda, sai che durante questa meditazione ti ho fatto delle domande, quando ti chiedevo se vedevi o sentivi qualcuno, tu mi dicevi di no, e invece c'era qualcuno e io allora ovviamente le dico, scusa ma come fai a saperlo tu? Cioè eri nella mia testa? Cioè ero io che stavo facendo la meditazione? E lei mi dice, eh sì perché io potevo vedere e sentire quello che tu stavi vedendo e sentendo. E non lo so raga, a me sta roba mi puzzava un po'. Ma comunque, vabbè, andiamo avanti, vediamo come va a finire sta storia. Allora le dico, ah, ok, quindi, quindi... E lei mi dice, c'era qualcuno, tu non volevi vederlo ma c'era. Io ho sentito anche il suo nome o diceva il suo nome o so il suo nome, adesso non vedo come è andata. Comunque mi dice che questo individuo, questa entità era Ikmalek. Io ve l'ho già nominato in qualche episodio precedente. E io le dico, ah, perché questo nome mi diceva tutto e niente, sinceramente, no? E lei inizia già a darmi un po' l'indizio che questo Ikmalek comunque era tipo un demone. E di nuovo la cosa mi puzza, perché raga, io adesso non sono proprio nuova nell'ambiente esoterico. Quindi so un po' come funzionano le cose. E a me questa mi sapeva proprio di una grandissima stronzata. Uno, perché i demoni non ti dicono il loro nome, regola base. E due, perché ora che tu riesci effettivamente ad entrare in contatto con un demone, cioè raga, vabbè, non è proprio la cosa più semplice nel mondo. Ecco, soprattutto anche perché non ho mai fatto alcun tipo di rituale o cose del genere. Non è che sia il mio obiettivo di vita incontrare un demone, sinceramente. Ho già i miei problemi, questo vorrei evitarmelo. Vabbè, comunque dico, vabbè, quindi che si fa? Quindi adesso passiamo alla seconda fase, che appunto è la fase che io identifico come sorta di rituale di esorcismo, perché adesso ve la racconterò e alla fine questo voleva fare. Cioè lei mi ha fatto capire che dentro di me, più che dentro attaccato a me era, c'era questo Ikmalek, questo demone, e dovevamo insomma fare in modo che mi si levasse dalle palle sostanzialmente. E decide di creare un'atmosfera ancora più buia, perché durante la meditazione già la stanza comunque era abbastanza buia, nonostante fosse pomeriggio, fosse giorno, però nella meditazione voglio occhi chiusi, quindi c'è luce o oscurità, non è che mi cambiasse più di tanto. E qui invece proprio ha iniziato a creare un'ambientazione fatta solo di candele. Occhio raga, occhio a questo dettaglio perché poi ci torniamo. Quindi ci sediamo in terra a gambe incrociate una di fronte all'altra e lei inizia praticamente di nuovo a parlarmi, a farmi delle domande, fino a farmi capire che praticamente io non stavo più parlando con lei, ma stavo parlando con questo demone. Vabbè raga, lasciamo stare. E tra l'altro, per farmelo capire, inizia a dirmi tipo, adesso non mi ricordo bene le frasi specifiche, però comunque diceva cose tipo, io sono uno dei tanti, io conosco Lucifero, io di qua, io di qua, vabbè raga, io vi giuro, mi stavo per mettere a ridere, perché veramente era una cosa surreale e a tratti cringe e imbarazzante, no? E lei continuava comunque a dirmi ste cose. A un certo punto, la cosa che ha fatto capire, che proprio era una bellissima messa in scena, cioè vabbè, lo sapevo già a quel punto, però diciamo che nel caso qualcuno avesse dei dubbi, questa era proprio poi la prova principale, oltre a essere a gambe incrociate una davanti all'altra, ci stavamo tenendo anche tipo così, o ci tenevamo le mani, comunque eravamo in contatto fisico, no? Allora lei, lui, mi dice, vuoi liberarti di me? Vuoi che io me ne vada? Eccetera, eccetera. E io le dico, sì? E allora perché stai continuando a tenere le mie mani? Cioè, raga, perché ovviamente un demone che vuole possedere il tuo corpo, o starti attaccato, o quello che è, ti dà consigli su come liberarti di lui. Funziona proprio così, amo, giuro, giuro, proprio, guarda, cioè io ho beccato l'unico demone deficiente, o non lo so, e io di nuovo lì veramente stavo per scoppiare a ridere, allora io ho fatto tipo, ah, uh, no, liberiamoci, per carità, non toccarmi, eccetera, eccetera. Questa cosa, adesso io ve la sto facendo veramente breve, ma è durata non so quanto, ma sarà durata tipo mezz'ora, non ne potevo più. Fatto sta che a un certo punto, quindi, succede che finalmente questo legame si spezza, lei riesce in questo esorcismo, arriva la ciliegina sulla torta, raga, lei fa finta di svenire. Io vi giuro, vi giuro, avrei voluto che qualcuno filmasse quella scena, quella situazione, perché io ero così, amo, ma fai sul serio? Cioè, no, vabbè, io ero, ero imbarazzata veramente, perché dicevo, ma come ci sono finita in questa situazione? Ha fatto finta di svenire, e quando poi si è ripresa ha detto, oh mio Dio, no, guarda, io, io non ti chiudo neanche soldi, perché è stato troppo, troppo per me, per favore, per favore non tornare più, però perlomeno non mi ha chiesto soldi, che poi secondo me non mi ha chiesto soldi, semplicemente perché ero l'amica di sua nipote, però vabbè. E perché vi dicevo delle candele? Perché l'unica parte un po' inquietante che c'è stata durante questa seconda fase di esorcismo, ma grazie a Dio conoscevo già questa tattica, quindi non mi sono fatta fregare, è che se voi vi mettete tanto vicino a una persona in una situazione di chiaro-oscuro, ombra, penombra, dove le uniche luci sono le fiamme delle candele, che sono tra l'altro anche traballanti, non fisse, creano un'illusione ottica, dove ti sembra che il volto della persona che è davanti continui a cambiare, e questa tattica, raga, mi raccomando, occhio perché la usano veramente in tanti, quelli che cercano di fregarti, quindi lei sperava probabilmente che questa cosa mi facesse dire, oddio, guarda, le sta cambiando il volto, allora è veramente lui, Iqmalek davanti a me, no, no, perché ripeto, non sono la prima dei cretini, magari non sono sempre furba nella mia vita, ma almeno in queste cose sì, quindi brava, una messa in scena veramente incredibile, peccato per alcune cose, insomma, che ti hanno fatta fregare da sola, tipo darmi suggerimenti per liberarmi dal demone, quando tu dovresti essere entri al demone in quel momento, il finto svinimento, e tutte queste cose qua, veramente imbarazzanti, poi vabbè, niente, quindi me ne vado, e non è cambiato nulla, nel senso che, cioè, l'avevo già fatto io il cambiamento con il rituale di bando, quindi lui non poteva più entrare in camera mia, e non riusciva ad entrarci, però comunque continuavo a sentirlo, quindi voglio dire, è stato abbastanza inutile, e fine raga, questa è stata la mia esperienza di, non so, persona un po' ambigua, un po', non lo so, un po' truffaldina forse, perché, ripeto, da un lato, ha fatto delle cose che, secondo me, sono validissime, tipo la meditazione guidata, eccetera, eccetera, e che non avevano nulla di strano, ci sta, ok, ma tutto il resto è stato veramente ridicolo, e anche triste, perché penso a quante persone magari si sono fatte fregare in questo modo, quindi nulla di personale con la mia amica, perché lei voleva soltanto fare una cosa carina nei miei confronti, positiva, voleva aiutarmi veramente, purtroppo dall'altra parte, però c'era una persona non del tutto onesta, almeno questo è il mio pensiero, ditemi, ovviamente poi anche voi cosa ne pensate, come vi è sembrata la vicenda, io ve la posso raccontare soltanto ovviamente dal mio punto di vista, con le mie sensazioni, magari la mia amica ve lo racconterebbe in un altro modo, perché comunque lei è stata presente per tutto il tempo, e magari la sua versione dei fatti non coincide con la mia, non lo so, non lo so, io posso riportarvi soltanto il mio pensiero, la mia idea, se anche a voi è capitato qualcosa del genere, per favore ditemelo, perché io ho bisogno di non sentirmi sola, e cercherò il prima possibile di portarvi un altro episodio, con invece l'esperienza paranormale, che abbiamo vissuto io e Gabriele insieme, inoltre io adesso non so bene quando, voglio assolutamente tornare a fare il ghost hunting, con i ragazzi del PDU, se non avete visto i video che abbiamo fatto insieme, recuperateli, anche perché quando siamo insieme siamo una bomba magnetica, cioè veramente attiriamo tantissimo le manifestazioni, le cose veramente, io amo fare queste cose, sono una scaricola di adrenalina, ma appunto dobbiamo un attimo metterci d'accordo, perché abbiamo avuto lo stop estivo, ora che però l'estate è finita da un po', ci dobbiamo risentire e metterci d'accordo, quindi se non usciranno più troppi episodi di questo format, perché appunto le cose da raccontare ormai stanno finendo, sappiate che perlomeno però uscirà sicuramente un video, insieme al PDU di un'indagine di ghost hunting, in qualche luogo abbandonato, vediamo non so ancora dove, e boh raga io direi che possiamo salutarci, scegliamo un hashtag della fine da scrivere qui sotto nei commenti, e l'hashtag della fine potrebbe essere, raga io farei hashtag fuffa, perché quella roba che io ho vissuto, secondo me era pura fuffa, imbroglioni, messe in scena, un po' una vanna marcata diciamo, ecco quindi sì hashtag fuffa, scrivetelo qui sotto nei commenti, io vi ricordo che in descrizione vi lascio tutti i link di tutti i miei social, così se vi va potete seguirmi anche lì, vi ringrazio tantissimo come sempre per essere rimasti con me anche in questo video, e noi ci vediamo al prossimo, ciao!